Ci sono anche degli esercizi molto semplici che aiutano a prevenire l'alluce valgo in modo molto naturale ed economico. Un esercizio consiste nell'allungare l'alluce e le altre dita dei piedi stendendole singolarmente per una decina di secondi. Puoi anche fletterle, cioè piegarle, su una parete e tenerle in questa posizione sempre per una decina di secondi. Un consiglio molto importante che bisognerebbe applicare sempre è quello di camminare utilizzando ogni parte del piede. Un altro esercizio molto utile consiste nell'afferrare e rilasciare ripetutamente un abito o del semplice tessuto con le dita dei piedi. Camminare sulla sabbia a piedi nudi o su terreni sconnessi è un buon esercizio di mobilizzazione per le dita dei piedi e di prevenzione all'alluce valgo. Concludendo, è doveroso aggiungere un consiglio più generale che consiste nello svolgere degli esercizi fisici per l'elasticità della schiena e per mantenere sane e attive le nostre articolazioni.